Ciao ragazzi a tutti, mi sono babbuinizzato qualche giorno fa quindi voglio fare questo video per dirvi cosa penso io del corso Info Marketing per Babbuini Allora, tre cose Prima di tutto, sei mesi fa circa ho acquistato Guerra Psicologica prima della chiusura dei due corsi perché in realtà volevo acquistare anche opportunisti solo che il mio vincitore d'assalto che è Edoardo e lo ringrazio di averlo perché mi ha aiutato molto nel mio percorso negli ultimi sei mesi non me l'ha venduto ha detto no Agad guarda non te lo vendo perché non ti serve cioè io gli volevo dare i soldi e non se li è preso se vogliamo dirla tutta vabbè perché lo sto dicendo? perché io avendo acquistato Guerra Psicologica avevo tanti dubbi perché pensavo di sapere già tutto perché noi pensiamo sempre di sapere tutto vi posso confermare raga che nel nuovo corso non c'è una singola parola che io abbia già sentito in guerra quindi per tutti quelli che pensano ma io già ho acquistato opportunisti vabbè di opportunisti non lo so ma non penso ho già acquistato Guerra che faccio? sì prendilo perché sono informazioni completamente nuove e qua arriviamo al punto 2 sono informazioni completamente nuove molto più aggiornate con delle strategie ma allora come fare i prezzi dei videocorsi come fare i lanci quanti pacchetti fare di consulenze come farli che prezzi mettere come fare gli sconti senza che questo sembri uno sconto e molte molte altre cose come posizionarsi allora non voglio usare parole che usa anche il big no? però il come posizionarsi veramente perché noi siamo dei piccolini delle piccole cacchette che non abbiamo milioni miliardi di dollari no? per posizionarci nella mente dei clienti allora se tu hai per magari 1000 2000 da investire in ads come fare per posizionarti veramente iniziare a guadagnare i primi soldi anche nel corso spiega anche se tu parti completamente da zero come fare se tu non hai una competenza come farla perché avere una competenza come trovare i primi clienti che prezzi fare ai primi clienti come avere le prime testimonianze per fare cosa poi con queste eccetera eccetera quindi molte strategie allora vi consiglio allora stando voi sul mercato italiano vi consiglio di acquistarlo su questo lancio perché prima di tutto ci sono i bonus il prezzo non so se salirà non so per quanto tempo quando lo chiuderà per quanto tempo lo chiuderà e quindi acquistatelo adesso perché ci saranno una valanga ci saranno una valanga di concorrenti che anche loro acquisteranno il corso e facendolo adesso avete un vantaggio sleale rispetto a quelli che lo acquisteranno magari fra sei mesi e inizieranno ad applicare queste strategie fra solo sei mesi raga acquistatelo adesso cioè sono 1200 euro se avete qualche punto non so in katanga vi viene a fare ancora di meno contattate il vostro venditore d'assalto magari non lo so fatelo perché è veramente un corso che oddio io poi mi sento fortunatissimo perché faccio business sul mercato russo e quindi queste informazioni non ce le ha nessuno qua vabbè a parte qualcuno che una volta in consulenza del big mi ha detto che ha qualche cliente anche qui non so in che nicchia spero non nella mia eccetera eccetera poi un'altra cosa che volevo dire e qua arriviamo al punto 3 il webinar l'intervento di David D alla realtà non esiste allora solo quello vale più di tutto il corso e non lo dico per che cazzo ne so per tanto per dirlo lo dico veramente perché io faccio il done with you qui in Russia ogni tanto io non sono ancora uscito in webinar facevo dei video corsi gratuiti però adesso avendo queste informazioni riuscirò a fare dei webinar che vendono sapendo cosa dire esattamente dal minuto 1 fino alla fine come fare a controllare a controllare in questo webinar viene spiegato in questo intervento di David viene spiegato come controllare la mente del tuo potenziale cliente farlo rimanere incollato allo schermo dall'inizio fino alla fine e fargli fare quello che vuoi tu solo questo video diciamo del come fare i webinar vale più di tutto il corso perché a me mi serve? mi serve perché facendo io il done with you ho tanti clienti adesso c'è tanti ho qualche cliente adesso che vende dei video corsi fanno coaching e allora per fare il lancio non c'è strumento migliore secondo me soprattutto qui in Russia viene usato tantissimo il webinar e io so esattamente cosa dire cosa fargli dire ai miei clienti perché io poi avendo anche una percentuale dalle vendite dei miei clienti mi farebbe piacere che loro vendessero ma anche se non avessi percentuale perché sono dei clienti se noi diamo valore il valore torna ti tornano le testimonianze poi possiamo usare queste testimonianze eccetera eccetera cosa volevo dire più per quanto riguarda il webinar ah è un'altra cosa visto che molti di voi non mi conoscono è normale sto parlando per quelli che stanno iniziando da zero magari tu non hai una competenza magari tu ce l'hai anche una competenza però non sai come uscire sul mercato che prezzi fare hai paura problemi di insicurezza eccetera voglio dire per tutti quelli come voi io ho iniziato sei mesi fa ho acquistato il mio primo corso Mentecatti che era ottobre se non sbaglio settembre-ottobre 2019 ci sono dei messaggi che parlando con Edoardo dicevo ma che cos'è il funnel come si fa l'auto-respond che sono un po' di cose le sapevo non dico che stavo partendo da zero completamente però un po' di cose le sapevo facevo il personal trainer in palestra allora ho acquistato questo corso ho iniziato ad applicare dopo un po' ho capito che non voglio fare il personal trainer ma voglio fare cose diverse infatti adesso faccio il done with you nel settore nella nicchia infomarketing non so come si chiama poi ho acquistato guerra mi sono preso una consulenza dal big quindi partendo da zero senza avere un soldo senza perché io non avevo soldo avevo zero sono riuscito dopo 6-7 mesi a guadagnare più di circa 10.000 euro 12.000 euro ho guadagnato e questa non è la cosa interessante perché la cosa interessante è che circa 6.000 euro li ho guadagnati in questo mese oggi è il 18 giugno se non sbaglio ho guadagnato circa già 6.000 euro in realtà sono un po' di più perché un 1.000 euro mi deve ancora entrare in più ho 20% del fatturato di ogni lancio che facciamo con i miei clienti ho anche il 20% di fatturato cioè per farvi capire non è solo quello che riusciamo a fare meno le spese e quello che rimane il 20% no no il 20% proprio del fatturato e poi se la vede lui le spese per le ads per il venditore gli strumenti eccetera eccetera questo perché lo sto dicendo perché raga siamo nelle mani giuste ringrazio a Dio che non so da dove è venuta questa idea al big di entrare nel mercato russo iniziare ad insegnare soprattutto a quelli che partono completamente da zero non sanno cosa fare raga siamo nelle mani giuste acquistate i corsi acquistate questo acquistate un altro io per farvi capire 6-7 mesi fa ho fatto un debito in banca per acquistare Mentecati e non vi consiglio di farlo io so come sono fatto io non ho paura di indebitarmi perché è passata successante cose quindi non ve lo sto consigliando però per farvi capire quanto è importante agire in qualsiasi condizione tu ti trovi adesso anche se non hai soldi anche se non hai una reale competenza vedi io con 6 mesi 6-7 mesi mi sono creato la mia competenza però no a parole io veramente ho dei clienti tutti i clienti hanno guadagnato più di quello che mi hanno dato a me infatti loro sono diventati i miei migliori venditori perché adesso mi consigliano ad altri clienti io ho speso zero in pubblicità io ho preso il mio primo cliente 6-7 mesi fa gratis ed è tutto iniziato lì quindi sono un ragazzo normalissimo come voi ho grandissime ambizioni ho dei grandi obiettivi e sono sicuro che continuando a studiare dal BIG e da tutta la sua squadra avendo anche il supporto di Edoardo non c'è scampo più prima che poi riuscirò ad raggiungere i miei obiettivi ci vediamo nel prossimo video dove rilascerò un'altra testimonianza magari quando avrò fatto un X per 10 o cose del genere ciao a tutti acquistate il corso non c'è